Sono tre gli imperiesi che parteciperanno alle Olimpiadi di Rio, che si sono aperte ufficialmente ieri sera. Si tratta di Giulia Gorlero e Giulia Emmalo per la pallanuoto e Fabio Fognini per il tennis. Per la pallanuoto le due ragazze imperiesi inserite con il sette rosa nel gruppo A con le padroni di casa del Brasile, Australia e la temibile Russia esordiranno contro le brasiliane martedì. Il secondo match andrà in scena contro l'Australia giovedì e l'ultima partita sarà sabato. Per il tennis maschile che vede protagonista anche il taggese Fabio Fognini, primo turno ha già preso il via oggi.